ciao ragazze ciao a tutti apro quest'anno con un video e vi faccio partecipare dell'acquisto che ho fatto nel mese di novembre che poi è arrivato il materiale nel mese di dicembre l'acquisto è stato fatto da topstone e mi sono trovata benissimo il materiale tutto perfetto e i colori strabilianti quindi ho preso dei rigoli da 14 mm sono in vetro e sono favolosi li ho messi io per colori perché erano delle tavolette tutte sparse guardate che colore ancora questi colori andiamo avanti guardate questi sono uno più bello dell'altro sono 180 regoli che ho pagato 15 euro e 30 quindi neanche 10 centesimi a pezzo e ancora quest'altro tavolotto guardate questo azzurro è il mio preferito è favoloso voglio farvi vedere uno di questi guardate che bellezza il retro è nero quindi volendo si può usare anche da questa parte questa colorazione naturalmente il retro è il retro è nero gli altri colori no guardate sono stracontenta dell'acquisto molto molto belli niente che dire 10 euro 10 euro di questo sito mi piacciono tantissimo sono contentissima sia dei colori che del del risultato perché non ne ho trovati solo due o tre appena appena scheggiati ma che si possono utilizzare tranquillamente quindi il massimo del voto è questo sito quindi se volete acquistare eccolo qui vi saluto ciao e la prossima con un video tutorial grazie